Il network media nord-est diventa sempre più grande, sempre più leader dell'informazione locale in Italia e annuncia la prossima acquisizione di TV12 Udinese TV, la televisione ufficiale della storica società di calcio di serie A Udinese. Una nuova zampata del leone che consolida la leadership assoluta a nord-est e nel paese del gruppo di televisioni regionali già numero uno per ascolti con oltre un milione di telespettatori ogni giorno. Ad Antena 3, prima televisione regionale in Italia per ascolto Auditel, Rete Veneta, Tele Nord-Est e Tele 4 si aggiungerà dunque nel nostro bouquet anche la televisione friulana amata dai tifosi bianconeri. Sono lieto di comunicare il prossimo passaggio di TV12 Udinese TV, che è la televisione ufficiale dell'Udinese calcio, all'interno del network media nord-est. È veramente un passaggio importante perché permetterà al nostro network di completare anche con la televisione di Udine la sua presenza capillare in tutto il nord-est. L'imittente Udinese TV resterà ancora l'imittente ufficiale dell'Udinese calcio e proporrà i suoi contenuti sportivi, ma integrerà la sua informazione con l'attenzione all'informazione locale e agli eventi del territorio che contraddistinguono tutte le televisioni del nostro network. Un network che è arrivato a contare più di 100 dipendenti, 8 sedi e la leadership assoluta non solo nel nord-est ma in tutta Italia fra le televisioni locali. Questo accordo consentirà il mantenimento dei livelli occupazionali e la pianificazione di sempre nuovi investimenti per la costante crescita anche di TV12 Udinese TV, che resterà la televisione ufficiale dell'Udinese calcio con esclusive programmi sportivi ai quali si affiancherà un nuovo palinsesto di informazione dal territorio. Quindi è veramente un grande piacere poter dire e poter annunciare questo nuovo prossimo passaggio di Udinese TV all'interno del nostro network che così sarà composto da 5 emittenti televisive, Antenna 3, Rete Veneta, TNE Telenord-Est, Tele 4 e Udinese TV TV12. In particolare nel Friuli Venezia Giulia alla presenza su Trieste si aggiungerà la presenza su Udine, completando il vero polo informativo regionale anche in quella regione. E in ogni caso l'obiettivo nostro sarà sempre e solo quello di essere vicini a voi telespettatori, che è la nostra vera e unica missione, offrire un servizio pubblico di autorevolezza, di informazione e di vicinanza al territorio.